La crisi che ha investito la Sardegna nel 2008 continua a produrre i suoi effetti negativi sul comparto artigiano. Nel terzo trimestre 2017 si registra una flessione del 2%, meno 709 aziende rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono sparite 435 imprese solo nell'ultimo trimestre e quanto emerge da un dossier elaborato dal Centro Studi della CNA Sardegna che ha analizzato i dati sulla natimortalità delle imprese artigiane nell'isola sulla base dei dati di Union Camere e Movi Imprese. A soffrire di più sono le costruzioni, meno 366 aziende e i trasporti, meno 93. Tiene invece il settore alberghiere, quello della ristorazione. Soffrono invece i servizi alle imprese. Stabile il numero delle imprese nel manifatturiero e nell'agroalimentare. A livello provinciale Sassari è quella che ha fatto registrare il calo maggiore con meno 299 aziende. La Sardegna negli ultimi sette anni ha visto complessivamente sparire 6.515 aziende, una riduzione del 15.2% che è la più alta in Italia, che ha una media nazionale del 9.2%. Il comparto edile è calato del 19.2% con la scomparsa di 3.211 imprese. Il settore alberghiere e quello della ristorazione hanno tenuto anche grazie alle buone performance del turismo regionale, spiegano Pierpaolo Piras e Francesco Polcu, rispettivamente presidente e segretario regionale dell'associazione. Lo stesso va detto per il commercio al dettaglio, invece i servizi, in particolare quelli alle imprese, non hanno confermato il trend positivo iniziato nel 2015. Le difficoltà dell'artigianato e della piccola impresa, concludono Piras e Polcu, confermano una linea di tendenza che anno dopo anno si rafforza sempre più. Si sta producendo una preoccupante cesura tra il mondo delle microimprese e le imprese di maggiori dimensioni, di proporzioni tali da non poter essere spiegata solo con gli effetti prodotti dalla crisi e dall'ovvia migliore capacità di risposta che le imprese più strutturate sono in grado di offrire.